Bella ragazzi, stamattina direzione Breglia, Como, ci vediamo dopo, bella. Ferrata del Grona, il culo si fa sentire, madonna. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bella ragazza, abbiamo appena lasciato il parcheggio dietro alle mie spalle di Breglia. Dopo che avete pagato il ticket, mi raccomando, sempre su, sempre su. Sembra che non finisce mai questa strada. Dici, dov'è il parcheggio? Voi continuate su, poi ci arrivate, per forza, là dietro. E da qui si sale subito su e c'è il primo cartello a sinistra che vi dice di andare verso il rifugio. Minaggio, eccola là. E via, subito facili di qua. Bella. Allora, oggi sono venuto qui a Breglia per fare la ferrata del centenario del Monte Grona. Ferrata classificata difficile, ma non per la difficoltà in se stessa, per la lunghezza più che altro. Una ferrata spettacolare. È già fatta due volte, farò sempre lo stesso video, ma per ricominciare e rimettermi in forma voglio fare le ferrate che ho già provato e che conosco un pochettino. È inutile che vada a cercare cose nuove che devo ancora vedere se riesco poi a portare avanti il mio percorso di ferrate, se funziona tutto il mio corpo o se regredisco. Quindi il posto è pazzesco. Ci vorrà un'oretta neanche per arrivare all'attacco. È una delle ferrate più belle che ci sono. Ragazzi, con una vista spettacolare dove ci si può arrampicare con le mani, anche se sei poco esperto. E ha tante vie di fuga. Quindi da provare. Già solo venendo qua da minaggio, tutta la strada è panoramica, con il lago il sole. Ti stimola tantissimo e poi al ritorno c'è il rifugio menaggio che se vuoi ti fermi a mangiare la solita polentina che però ti fa venire la panzetta. E qui dobbiamo aprire un discorso però. Percorso basso ben segnalato per arrivare sul rifugio, puntini rossi e addirittura le targhette che ho scritto rifugio. E niente ragazzi, sono le 9 del mattino, fa un caldo già pazzesco, siamo al 18 febbraio. Oggi ci faccio la sauna qua, ci lascio la pelle. Wow. ragazzi 40 minuti per arrivare quel rifugio menaggio con degli squarci dei panorami incredibili che siamo solo all'inizio solo all'inizio oggi veramente una giornata che non dimenticherò facilmente c'è non è possibile alle nove e mezza c'è dal rifugio menaggio usciva un odorino di ragù di c'è adesso capito come faccio continuare è venuta la fame della madonna c'ho due barrette e mi devo sparare un mazzo tanto meglio non passare di qua sono in paradiso sono in paradiso allora ragazzi sentierino che porta alla ferrata quei 20 minuti fare comunque attenzione perché in certi punti è esposto quindi comunque bisogna fare attenzione che si si vola si burla jo qua sinistra sono cazzi e niente adesso arriviamo un altro punto panoramico pazzesco qui faccio fuori tre pile della gopro oggi perché veramente ogni cinque minuti ti ferma va bene altro bivio e quindi teniamo la sinistra per la ferrata siamo quasi arrivati e già si vede la bestia del grona bella ragazzi allora oggi qui al grona voglio salutare la mia amica federica chiodi blogger di professione andatela a vedere perché fa dei bellissimi giri non come me che sono mi butto a destra manca lei è molto più organizzata e poi voglio salutare la mia amica antonella che dopo l'incidente si è quasi ripresa e quindi sarà la prima che porterò sul grona bella ciao antonella arrivato all'attacco ci ho messo un po sono in ritardo sono le 10 la ferrata potrebbe durare anche tre ore vi dico subito che non so se ce la farò fare tutta perché non è come la gamma 1 che ci ho messo due ore e mezza ma è molto più facile questa in certi punti devo tirare devo essere proprio bravo lento per non sforzare il braccio la spalla e il ginocchio quindi non so se ce la farò è veramente dura e lunga e sinceramente c'è una barretta sola pure se mi viene fame sono fottuto però vi dico subito che c'ha delle vie di fuga e quindi per quello che sono venuto dai ci vediamo su bella allora ripeto non sono convintissimo oggi di fare tutta la ferrata perché l'altra volta mi sono avventurato sulla gamma 1 ma è tutto un altro mondo quindi veramente lunga dove iniziare la prima ci vediamo tra un po bella allora non me la ricordavo effettivamente siamo su un altro livello poi c'è il filo ricoperto che ti dà la parte comodo ma dalla parte continua a intrecciarsi con la catena no pochettino ti dà fastidio dopo mi pare che diventa più più bello però effettivamente non mi ricordavo insomma che insomma che non è una cosa una cazzata la gamma 1 una passeggiata sì la vedo dura oggi la vedo dura non penso che il mio fisico riuscirà riuscirà a tenere questi sforzi fatti anche perché non ho più la pratica di prima quindi non sarà così facile sì pieno di appoggi per le mani molte volte si fa meno fatica che tirarsi su con la catena effettivamente e devo andare pianissimo perché se non mi faccio fuori cazzo siamo su un altro livello siamo su un altro livello ragazzi pezzettini non banali per un cazzo sai quando rimani con la mente che ti sembra di saper fatto tutto fare tutto quello che facevi ecco questa è la dimostrazione come quando va in bicicletta dopo dieci anni e pensi di fare ancora cento chilometri la prima uscita senti come andrà andrà effettivamente come al solito alzo la sticella non fare per grado invece ho alzato la sticella mi facevo un corno rat e diciamo che era molto meglio no no in algrona che è lunghissima eccolo qua sale sulla sinistra di là va bene il primo pezzo fatto ragazzi non mi ricordavo proprio e dico la verità fa un caldo che c'è da impazzire che c'è ecco eccoci qua via bella ecco un bel canalino da arrampicarsi dentro ragazzi sto facendo veramente tanta fatica lo dico effettivamente sto facendo tantissima fatica poi c'è appunto questo filo che ogni tanto da fastidio però deve portarlo a destra ma sinistra vediamo un po preso malissimo preso malissimo sto facendo degli sforzi immensi non va bene per un cazzo messo malissimo sbagliato ragazzi sbagliato dovevo andare per grado il rischio di rovinarmi la spalla dovevo andare per grado dovevo rifare la gamma 1 piano piano ma già me ogni volta ogni volta che non sto un po benino penso di essere già posto ma ci vuole tempo ci vuole tempo ragazzi veramente dura c'è qualche pezzettino bisogna tirare per poi trovare dove mettere il piedino per non tirare tutto di braccio quindi un po di aderenza e poi bisogna trovare il buco dove mettere il piede ok 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Allora, ragazzi, bellissimo e faticosissimo. Sì, guardate cosa è intorno. Si sale su, eh. Si sale su, si sale su. Allora, consiglio, è bellissimo perché c'è questo filo plastificato che ti dà la sicurezza di poterti arrampicare con le mani. E' molto faticosa. Ecco, una cosa, nei pezzi, quelli troppo ripidi, usate la catena perché è un po' troppo rischioso. Dai, vediamo dove arrivo. Bello. Ecco, c'è questo angolino che è dove non c'è nulla. Quindi si sta un po' attenti perché la roccia deve tenersi, no? Wow. Ecco, c'è anche una staffa. Non l'avevo vista. Scende giù un po'. Sinceramente, la mia schiena. Guardate che scenario. Beh, il passaggio non è male. Bello. Facciamo anche, cosa dite, una bella spaccata. Ops. Qua è solo un pezzettino piccolo. Dove si scende? Scendiamo al contrario. Beh, ragazzi, sarà che io sono fuori forma, ma non è, insomma, è vero che è tutto a tronconi, poi ti dà anche il respiro, no? Ci sono dei pezzi che devo tutti far respirare. Quindi, ok, ci sta. Però, sì, bisogna sapere. È fatto, uno deve sapere il fatto suo. Se no, ragazzi, ma poi dopo ci rimani su, ti viene mal di braccia. Io oggi sto veramente facendo fatica. Eh, l'ho iniziata male, dovevo stare un po' più attento, ma poi queste scarpe non mi trovo neanche molto bene. Sapere mi mettevo gli altri, più grossi, mi hanno una presa della Madonna. Adesso si risale un pezzettino per riattaccare, riattaccare in un altro torrione, che qua sono tutti i torrioni, saranno 7,8. La ferrata è molto lunga. Qua si può anche staccare. Si ricomincia col terzo torrione. E vediamo cosa ci porta, cazzo, questo sale dritto, porca vacca. Cazzo, cazzo. È che non devi rimanere neanche un attimo in tensione, perché sennò per sganciare e sganciare. Guardate, questo è drittissimo, eh. Guardate qualche roba. Guardate qualche roba. Guardate quanto è dritta. È un muro. Non lo so. Adesso devo passare addirittura dalla parte opposta. Devo trovare un sasso che mi permette di andare su. Bisogna trovare tutti i buchi per i piedi, perché se non trovi... Poi c'è anche la catena ballerina. Se non trovi i buchi, devi fare tutto di braccio. Vedi, ti si blocca. Qua sotto un attimo sono cazzi. Questo è veramente duro. Allora, devo trovare il passaggio, per forza. A passare a lato, forse è meglio. Cazzo, ragazzi. Non me lo ricordavo. Allora, se riesco ad anticipare, è una grande cosa. Ok. Madonna, quanto è dritto questo. Cazzo. Niente, va fatta con tutta calma. Ragazzi, non me lo ricordavo. Ragazzi, non me lo ricordavo. Non riesco ad arrampicarmi. Devo fare tutto di braccio. Non me lo ricordavo. Cazzo, 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 che muro. Ma niente. Devo tornare indietro di grado. Sono afferrata. Troppo. Anche la schiena tira troppo. No, no, no. Eh, robi, robi. Le cazzate ne fai, eh. Ne fai di cazzate. Se riesco a trovare i buchi, è diverso. Riesco a salire meglio. Minchia, quando l'ho fatta l'anno scorso, era in formissima. Me la son mangiata in due ore e un quarto. Vada, solo ci metterò quattro ore. Da. Forse è meglio salire sulla sinistra, dico la verità, in una sarra ampica. Lasciare la catena. Ci si rischia un po' di più, ma mi sembra più facile. Ci sono più appiglie, guardate qua. Mi sembra, vorrei fare la cazzata del secolo. Passiamo a sinistra, che c'è un po' di roccette libere. Ok, 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 perfetto. Questa da sotto. Cazzo, sti cazzi ragazzi, non è una scherza, non è una scherza. Classificata è difficile, non è solo la lunghezza. Non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Non ti fermare col braccio. E fai su bene. Sempre la solita storia ragazzi, quando sei da solo, tutto un altro mondo. Che dire ragazzi, è una ferrata difficile. È lunghissima. Oggi praticamente è estate, non è primavera. Adesso non ho tempo di spogliarmi di più, ma è incredibile. Guardate dove sono qua. Bello. Bello. Butto fuori sulla destra, un po' più recolosa però. Ragazzi, non lo so, non lo so, troppo dura per me. Dopo un'ora, un'oretta, sono già, bello che è morto la spalla, mi fa un po' male. Allora, qui c'è il bello di questa ferrata che dopo un'ora, comunque è fatto dei passaggi comunque molto impegnativi, due o tre impegnativi, c'è questa bella uscita per uscire dalla ferrata. Che poi bisogna vedere dove, mi sa che è più pericoloso uscire da qua per arrivare sul sentiero e poi tornare giù di lì al rifugio Mianaggio. Quindi, non credo di continuare e mi vado a rischiare tutto il lavoro fatto. Mi do un'occhiata ancora qua sopra e poi magari la prossima ferrata, prossima ferrata, magari la faccio un po' più blanda in modo di arrivarci più per grado. Ho esagerato, non voglio veramente rovinare un lavoro che da mesi sto portando avanti. Guardate che bello di qua. Fantastico. Che dire, io accetto anche la sconfitta, questa è un'altra, gamma 1 è andata bene, questa invece è una bella sconfitta. Però ci sta, ci sta, vabbè. Adesso magari mi faccio una camminata un pezzo su, mi faccio le mie tre ore con un'ora di ferrata durina. E quindi il mio allenamento comunque l'ho portato a casa. Dai, ci sentiamo nel finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti Niente, dove c'è la prima via d'uscita che è veramente una manna dal cielo per quando hai qualche problema Un piccolo sentierino un po' bruttino Poi a un certo punto trovi anche due catenine per scendere giù dal sentiero E di qua praticamente tagliando qua ti ricongiungi praticamente penso alla direttissima che va su al Montegrona Che in teoria sarebbe da fare ma oggi non lo so, adesso sento come mi sento Se no mi godo la giornata, non c'è problema Vedi questa uscita è tattica Allora vi dico, ce ne sono due mi pare di uscite Quindi due uscite Quindi una di una dopo mi pare un'altra oretta O quasi un'ora La ferrata dura due ore e mezza Tre ore Torione dopo torione Ti spacchi il cu La mia scarpa fa schifo quindi non mi sono trovato bene nel salire C'è una bella bella scarpettina fine 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 Che entra dentro tutti i buchi Fa un po' mal la schiena anche Niente Va bene, va bene Ragazzi bisogna saper rinunciare Bisogna saper rinunciare anche se ti girano le palle Niente da fare, niente da fare La spalla si faceva sentire Ho usato troppo, ho fatto il viaggione Per un'ora di ferrata Però vabbè dai, un'oretta a salire, un'ora di ferrata Un pezzettino l'ho fatto sopra Le mie tre ore me le sono portate a casa E a questo punto mi butto nel cibo Con una vista panoramica pazzesca Bisogna saper rinunciare E sono io che sono un bigolo Che continuo a fare le cose più Più alti di quello che posso fare Allora prossima Bisogna fare corner rat E poi non lo so Per grado, per grado Madonna che nervi Ragazzi, quando la delusione è forte Cosa ti resta da fare? Ti resta solo che bailare Yeppa Tiwa Si sabes que ya llevo un rato mirandote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamandome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Allora ragazzi, vabbè insomma è stato bello però come al solito insomma quando non riesci a fare qualcosa è una delusione Ho sbagliato, ho voluto andare, ho voluto fare di più Purtroppo il mio problema è avere la mentalità di un ventenne nel corpo di uno di 55, 56 a marzo Quindi voglio sempre fare di più Devo stare calmo perché devo riprendere anche il kite, il kitesurf che è una delle mie passioni Cioè che mi prende proprio dentro, cioè quello che mi spinge con un'adrenalina pazzesca La montagna è quella che mi fa sognare, le ferrate quelle che mi portano tensione veramente E quindi ogni cosa ha il suo piccolo mondo Niente, ho fatto il mio giro per concludere Un'ora a salire Un'ora di ferrata circa E sono uscito alla prima uscita che c'era per Svincolarsi dalla ferrata Sceso giù E niente Sono andato al rifugio Mi sono mangiato un piatto di pasta molto buono Anche con una vista spettacolare Preso un po' di sole E niente Ho registrato il percorso weeklock Quindi lo metterò sul video Nel caso qualcuno volesse fare un pezzo di ferrata Ma non se la sentisse di farla tutta Perché sono due ore e mezza, tre ore Quindi impegnativa Ripeto, ci sono due uscite Non una, ma due uscite La seconda non mi ricordo dov'è Niente, quindi a questo punto Se tu vuoi Qualcuno vuole fare il percorso Un'ora di ferrata Provare a fare la ferrata del Grona con un'ora E non si vede più niente Aspetta C'è Può fare il giro che metterò su weeklock E quindi Molto facile La ferrata però Non è facilissima Per chi è alle prime armi Perché è bravo Anzi si diverte Perché si arrampica E tutto Io ripeto Per la mia spalla Ho capito subito Che non era cosa Anzi mi fa pure male adesso Non era cosa Non c'entra niente con la gamma 1 Che sono salito piano 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 Sulle Come si chiama? Sulle scale Tutto mi sono Ci ho messo due ore e mezza Barra tre ore il giro Ma è un altro mondo proprio Qui si fa già sul serio Non è proprio il top Eh ragazzi C'è di peggio Molto di peggio Però Sì Spesso se non sei bravo Devi usare le braccia E quindi Ti fai fuori Un po' Le braccia Posto fantastico Ferrata Incredibile Guarda veramente La consiglio A tutti Da Milano Un po' lunghina Però se parti presto Eviti il casino Che c'è sul lago E quindi In un'ora E venti Sei qua Se invece parti tardi Poi ti devi trovare il traffico E ci metti anche due ore Top Con questa vi lascio Al prossimo video Sperando che sia un video Dove concludo qualcosa No la gamma 1 L'ho conclusa E quindi Spero che vi piaccia lo stesso Perché io metto tutto Posto tutto Anche quando sono sconfitto Ricordatevelo Non bisogna nascondere nulla Bella Ciao 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 Ciao